Più di quattro ore di interrogatorio nei confronti di Maria Cristina Ercoli e dell'ex segretario comunale di Gubbio Paolo Cristiano è l'epilogo della mattinata di ieri, quella che doveva in realtà segnare con certezza il giorno in cui Goracci darà la sua versione dei fatti, momento che è stato nuovamente rinviato. Appena iniziata l'udienza, Sabrina Morena, la ragazza che secondo l'accusa sarebbe stata oggetto di molestie sessuali da parte dell'ex sindaco di Gubbio, ha domandato di essere accolta come parte civile, richiesta respinta dal giudice, in accordo con quanto sostenuto dalla difesa di Orfeo Goracci, perché è tardiva ma potrà essere nuovamente formulata in caso di rinvio a giudizio. La Ercoli e Cristiano nel corso dell'interrogatorio hanno negato fermamente l'esistenza di un presunto gruppo Goracci che secondo la procura della Repubblica di Perugia avrebbe dato vita ad una situazione per delinquere finalizzata all'abuso di ufficio, al falso, alla concussione e alla distruzione di documenti. Nelle prossime settimane sono ovviamente attesi sviluppi sulla vicenda, nel frattempo le difese degli indagati hanno espresso soddisfazione per l'andamento generale dell'udienza. Grazie a tutti.